grazie mimo per avermi dato l'opportunità di parlare del questo contesto e di come diciamo un contesto del genere può incidere su su chi dipinge su chi scolpisce su chi si dedica diciamo all'arte in genere all'arte visuale in particolare per mia natura sono una persona che vive in isolamento e vive volentieri l'isolamento certo che è un isolamento scelto ed è un isolamento rispetto a un mondo che ha una sua vita diciamo ordinaria una vita ordinaria che ha dei ritmi a delle modalità che non sempre mi piacciono però diciamo la situazione attuale è profondamente diversa non mi sento diciamo separato rispetto a una realtà ordinaria ma mi sento nella separazione dentro una realtà che è tutt'altro che ordinaria dentro una realtà che è tragica e quindi stranamente mi sento meno isolato di prima io abitualmente cerco cerco l'isolamento perché mi crea una condizione ottimale ognuno è fatto a modo suo e alcuni preferiscono alcuni come me preferiscono diciamo una condizione appartata per avere la situazione migliore per riflettere e per sviluppare un linguaggio dei contenuti forme di comunicazione però riguardo al tema che ponevi tu io non mi arresto e voglio dire che invece a me succede spessissimo di arrestarmi quando c'è qualcosa di importante da dire quando ho delle buone intuizioni quando ci sono delle urgenze molto forti la mia prima reazione è una forma di paralisi mi fermo e questo sta succedendo adesso anche il rapporto a quello alle urgenze che premono fuori dalle mure di casa mia no che riguardano diciamo un contesto che non lascia nessuna parte del mondo isolata che tocca a tutti noi siamo noi italiani diciamo abbiamo vissuto dal dopoguerra ad oggi un periodo nel quale il nostro paese non è stato toccato dalla guerra o da grandi tragedie e le guerre sono scoppiate altrove magari proprio dietro la porta di casa nostra in jugoslavia oppure diciamo nell'africa ad oriente ma l'italia è sempre stata risparmiata adesso noi siamo ci siamo trovati immessi in realtà diciamo tragica che tocca a tutti quindi tocca a noi stessi c'è credo che occorra fare una certa riflessione e allora mi viene in aiuto una bellissima poesia di mano a scorsa poeta peruviano che nel periodo in cui diciamo il perù era soggetto alla dittatura interna ed anche alle operazioni di es proprio da parte delle holding americane del petrolio scriveva spesso una poesia epistola a los poetas che viendranno lettera ai poeti che verranno nella quale lui dice io in questo momento non posso parlare dell'amore delle belle ragazze perché le nostre strade la nostra vita la nostra realtà è piena di cose illiberali siamo sotto dittatura c'è la guerra siamo dominati e quindi mi perdonino i poeti che verranno se le mie poesie non saranno canti di gioia ma parleranno del mio popolo ecco questo questa lettera mutatis mutandis mi dà proprio il clima delle urgenze che si pongono agli artisti cioè i poeti ma anche ai a chi come noi pratica l'arte visuale la realtà è così forte che credo probabilmente porrà delle urgenze in tutti gli artisti che la vivono in questo momento e immagino che questa riflessione forse porterà a un rapporto diverso più profondo con l'urgenza diciamo dell'artista con l'urgenza del dipingere dello scolpire sarà affioreranno nuovi temi probabilmente e non sarà facile riprendere diciamo con superficialità supposto che lo si sia fatto questa nostra pratica ecco questo è il messaggio che mi viene da dire in questo particolare contesto grazie mimo un saluto a tutti e buon arte sembra una cosa sembra sembra una bestemmia in questo momento ma io penso che occorra occorra ora più che mai riflettere su su quello che è il nostro linguaggio su ciò che dobbiamo dire sul rapporto che noi dobbiamo avere con la realtà grazie 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 grazie